Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Superstar Saga A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro combattimento con la strega Ghignarda E se vi dicessi che quando ero bambino questo combattimento per me era infinito Io ancora oggi mi ricordo quando è stata la prima volta che ho fatto quel combattimento Non mi ricordo bene l'età ma ero a Bolzano nelle vacanze di Natale dai miei parenti E dio mio questo scontro per me era infinito, non finiva più veramente Eppure mi stavo divertendo un sacco nonostante comunque un po' la frustrazione di non riuscire comunque a batterla O meglio più che batterla che durava tantissimo e non riuscivo a finirlo Allora Ok M, L, M, L, M, L, M, 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 L, M, L Non riesco mai a farlo giusto sto coso Sempre una sorpresa dietro l'altra ogni volta Ecco qua Tanto non c'è fretta e il blocco secondo me ha le monete contate Cioè tu puoi sbagliarlo anche tre volte di fila che comunque ti droppa le monete Mmm ma guarda Questi sotterranei hanno la neve Ma cosa più importante Hanno dei fagioli nascosti Allora Vediamo la mappa Di qua c'è l'impianto elettrico Ok credo che sia un'unica zona Dobbiamo solo Liberare quella parte là in fondo Io preferisco sempre fare l'attacco a questo qua L'attacco base fa comunque più danno Di quello di Mario secondo me dico eh O meglio L'attacco continuo fa molto più danno Però Se devi contare su un unico danno Tanto vale Andare sul sicuro e fare l'attacco base 140 di punti esperienza Mica male Okitocchi Ecco fatto Muori Me ne frega relativamente niente Che prendiamo meno punti esperienza Ormai è arrivato a questo punto 1 2 Niente Non riesco mai a prenderlo Al momento giusto Quell'ampolla Prendiamo però Questo No Di qua Ecco fatto Quanto siamo? 19 12 Ok dai Stiamo andando bene Non so se fare la miscela Di questi due misti O fare questa qua pura Credo che farò prima la pura Perché È più difficile da ottenere Anche questa Dovremmo fare prima la pura E poi la miscela Allora Altro Ah Speravo di colpirlo Allora 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 Eliminiamo i nemici Ok Cagnone Uno Due Tre Quattro Preso Luigi Schiaccia Vediamo Vediamo se di qua C'è qualcosa O qualcuno Ok No Col cavolo Io qualcosa ho visto Ah guarda Allora Mi ha fregato Perché mi ha fregato Però c'è da dire Che era nascosto bene Un colpo solo Un colpo solo Complimenti Ecco fatto Preso A questo giro Non c'è Dicevo Non c'era neanche bisogno Di usare l'attacco Ah Pensavo Avesse Molta meno vita E abbiamo ottenuto Una nocciola Guarda Già quello è un risultato Vediamo se È come mi ricordo Fermi tutti Allora Centriamoci un attimo Qua tra l'altro C'è Un fagiolo da prendere No Non è come ricordavo Va bene Prendiamo il fagiolo Perfetto Andiamo di qua Preso Ok Ok Guarda Sono contento Uguale che sia morto La soddisfazione Che siano morti Comunque è maggiore Di quella Di non essere riuscito A fare I colori Ok 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 Tra l'altro Credo Di aver scoperto Che hanno anche Difese Diverse Che palle Va bene Riuscirò a colpirvi Non credere Non credo di riuscire A sfuggirmi Ecco Ecco fatto E abbiamo un sacco Di peperoncini E' Comunque E' Zecco Occhi Tocchi Allora Prima di tutto Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Bersaglio Seconda cosa Ecco fatto Bio 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 Laser Sono un cane Vieni ora Preso Ok Ok Giallo Ora tu sei blu Lasciamolo andare Perfetto Giallo E Mario È salito di livello Credo che ora Si sono Rialienati Un attimo Attacco Cinque Vabbè dai Va bene uguale Luigi Tu invece Che cosa aumentiamo Oggi La difesa No L'attacco Cinque Va bene Va bene Guarda Sempre di poco Ma Sempre meglio di uno Ricordatevi Queste parole Va tutto bene Finchè non è l'uno Anche se Quando c'è il cinque E ti esce il due Un po' ci rimani male Allora Vorrei solo vedere una cosa Se mi ricordo male io Tu ti rompi No Mi ricordavo che tipo Si scheggiava Divisa Divisa scolastica Mi ricordavo si scheggia Scusami Il martello Magari Ho confuso Un nemico O addirittura Gioco Perfetto Uno Due Preso Vai uccidili Ecco fatto Bio 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 Laser Ecco fatto Siamo già a diecimila Di punti esperienza Buono dai Allora, ecco Eccoci arrivati in questa zona Che palle Allora, aspettiamo il prossimo Preso Ah, troppo Cavolo, l'ho sempre odiato sto minigioco qua da fare Allora, aspetta, quando arriva lì Ok No, ma dai Luigi Allora, dobbiamo sperare che i topi rimangano ancora lì per un attimo L'ultimo Dai Devo rifarlo Che palle L'ho sempre odiato sto minigioco delle balle Il primo è facile Gli altri No Ovviamente Ok, tempismo giusto Ok, tutti e tre alla prima stavolta Col cavolo che mi fregate Più che altro Quell'altra fontana Che cosa serviva? Quella ghiacciata Vabbè, io salvo Salvo perché so cosa sta per succedere Ma a prescindere salvo Accademia Crepapelle Il piano interrato 2754 monete Mica male Diciamo che con le spese ce la possiamo fare Qua, ecco appunto No, ho sbagliato Martellata Andiamo con Luigi Bravo Di qua ce n'è un altro Ovviamente ce n'è un altro Bravissimi Ed eccoci Finalmente al fagiolo stella Il fagiolo stella è piovuto dal cielo improvvisamente Sono davvero colpito Comunque il fatto che piovono tesori È da condissiderarsi Un evento fortunato Anche questo deve essere opere Del fantasma Shampoo Shampoo, sei grande Ancora voi Recluta Ehi A meno che i miei occhi Non mi ingannino Laggiù Non sono il rosso e il verde Dell'altra volta Ciao Ancora una volta lo stesso schieramento Non è divertente Recluta Ehi Questo schieramento ti piace? Allora combattiamo Ehi Dateci Ah no, aspetta Spostiamolo Grazie Ok Vai via Shampoo Allora Come per l'altra volta No Porca miseria Mario Dobbiamo prima uccidere Shampoo O Shampoo Non ho mai capito Non faccio i tempi Non ho i tempismi giusti Terribile Vai via Perché non fai il tempo giusto? Maledizione a te Mario Vabbè È rimasta solo la recluta Aia Ecco Fatto A sto giro Col cavolo che sbaglio Ora facciamo solo Uno di danno Però Voglio continuare Ti giuro Morto? No Peccato Morto? No Martello Ecco Troppo Ci ho messo troppo A lasciare il martello Peccato che è una certa Poi I danni iniziano a diminuire Certo Se uno è bravo E riesce a mandarlo all'infinito Veramente rompe tutto 300 punti esperienza Mica male Gliジャ Ghiutta Ghià 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 Grav Ma avete vetto il cazzo Attenzione, il tesoro sta volando via Fermalo, recluta Stai buono Vai Luigi Resta qui Me ne vado Aiuto, non reggo la presa Recluta Mario, Luigi Mi sono ricordato Io sono Il grande remanger Ed è così che il fagiolo stella si spezzò Risola dell'est di Fagiolandia Mario Ecco appunto Dove cavolo siamo Aiuto Questo è bullismo Vai via Stupidi granchi Mario Esci fuori Per favore Aspetta che esco Luigi Ecco fatto Ali Che bravo Dove cavolo siamo? Ah boh Non lo so Ma noi ora salviamo Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se avete seguito Solti e dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti